Ciao ragazzuole, come state? Spero non vi siate già sciolti per il caldo. Io mi sono momentaneamente trasferita in casa dei miei, perché uno fa più fresco e due ho attaccato un'aria condizionata sola perché così faccio fresco anche gli animali che sono qua spaparanzati, una per terra sotto l'aria condizionata che anche l'otite non le converrebbe propriamente farlo però non la schiodo poverina adesso perché è lì moribonda e l'altro che è qua di fianco, il Pirla, che è qua che mi guarda, tutte le volte che tocco i libri allunga la zampina per cui se vedete una zampina che fa così è lo Sherly che rompe un po' le scatole. Secondo appuntamento con i libri in valigia, mi fa piacere che vi sia piaciuto questa idea, questa rubrichina chiamiamola così, anche se sapete non è un termine che uso spesso e volentieri e niente, per il secondo appuntamento ho deciso di consigliarvi alcuni romanzi classici. Allora, immagino che quelli tra voi che stanno facendo tipo liceo o qualunque scuola superiore io dico liceo ma non per fare capitola snob, semplicemente io intendo scuola superiore con liceo anche se dovrei dire scuola superiore perché è più corretto sicuramente avranno la loro dose di classici da leggere quest'estate cioè di solito si rompe le balle agli studenti facendogli odiare tra l'altro di solito succede così, per cui ho pensato quali sono i classici che ho letto io che mi hanno obbligata a leggere che ok a me piacevano perché sapete che io ho la letteratura inglese e andiamo d'amore d'accordo però ho detto quelli li elimino perché magari già se li ritrovano in elenco mi dicono pure la penna e ci rompo i cojoni con sta roba qua di questi classici qua per cui sono andata a pensare a quali classici io ho letto d'estate vabbè sapete che io vado in montagna per cui io il classico già per me è una cosa prettamente che appartiene all'inverno la lettura del classico sarà perché è una cosa che va presa magari più lentamente, con calma mi immagino che mettete lì con la copertina, col tè così di conseguenza copertina e tè caldo a me fa montagna, sappiatelo per cui ho pensato, cioè io ho letto alcuni di questi classici però quando andavo in montagna ci vado anche tuttora, però io ho letto le estati della mia gioventù alcuni, alcuni no, li ho letti tipo in treno e dopo ve ne parlo di questa cosa perché ce n'è uno che è un po' da leggere in treno se avete coraggio, è una sfida e niente, iniziamo subito allora con questi libri, con questi classici che vi consiglio sono classici chiaramente che seguono sempre la regola del video precedente cioè libri mai troppo grossi, troppo ciccioni libri che si leggono abbastanza alla svelta per cui non vi consiglio ormai un classico tipo I Miserabili che voi sapete che è uno dei miei romanzi preferiti ma mi rendo conto che da leggere d'estate sotto il sole a 40 in spiaggia non ce la si può fare tanto bene, può essere un po' complesso è proprio una lettura tipica dell'inverno, quella comunque da fresco per cui ho scelto dei classici un pochino più, un po' più agevoli un po' più da feuilleton, succedono tante cose, tanti avvenimenti più d'avventura ecco e a proposito di avventura vi consiglio uno dei miei classici dell'infanzia e voi sapete che io l'amo tantissimo questo romanzo come ho amato tantissimo il telefilm ovvero I tre moschettieri di Alexandre Ma io l'ho lessi la prima volta che andavo in montagna l'ho lessi anche il seguito, vent'anni dopo che vi consiglio nel caso sempre in montagna a Tarsogno per me I tre moschettieri è legato tantissimo a quando avevo 13 o 14 anni una cosa del genere, 12 o 13 anni ed è un romanzo bellissimo è un classico dell'avventura ci sono intrighi, ci sono inseguimenti ci sono battaglie, combattimenti con la spada c'è il romanzo di formazione perché comunque il protagonista è D'Artagnan che non è ancora moschettiere ma che vuole diventare moschettiere che incontra questi tre moschettieri più esperti Atos, Portos e Aramis e ognuno di noi ovviamente poi c'ha il suo moschettiere preferito nel caso non si fosse mai capito che qualcuno di voi non lo sappia io ve lo dico il mio Atos che è quello di molti tra l'altro credo ci sono due cattivi proprio di quelli proprio cattivi che odiate a morte che sono il cardinale Richelieu e Rochefort c'è di tutto i tre moschettieri c'è la corte, scusate c'è la corte di Re Luigi XIII per cui la corte di Francia ci sono gli intrighi all'interno della corte perché il cardinale ovviamente trama all'interno della corte c'è lo scandalo di questi puntali della regina, del duca di Bacchina per cui ci sono amore, inciuccioni, segreti amori corrisposti, amori no c'è la cattivissima Cammy Lady Cammy Lady tra l'altro è una delle fan fatale meglio descritte, meglio ideate è un personaggio, io adoro Milady facessi l'attrice vorrei fare Milady da qualche parte, in qualche spettacolo in qualche film, è uguale perché è un personaggio da una madonna per me è un romanzo di quelli che io vi consiglio tantissimo essendo comunque stato un foglietton chiaramente ricchissimo di colpi di scena nel caso non si fosse capito da tutta la mafrina che vi ho appena fatto è un libro che magari vi ha sempre incuriosito magari l'avete letto quando eravate più piccoli e volete riprenderlo perché comunque di solito si legge magari nelle forme quelle più semplificate quando si è ragazzi dopo magari lo si riprende in mano lo si rilegge io devo aver fatto così devo averlo letto quando ero proprio piccolina tipo a dieci anni in quei volumi più semplici poi mi ricordo l'ho riletto l'ho riletto ancora l'ho riletto due o tre volte questo libro qua poi l'ho letto vent'anni dopo volendoci al visconti di Brasile l'ho anche però ancora non l'ho letto per cui non vi so dire com'è sta di fatto che almeno i tre moschettieri racconto di amore, amicizia, intrighe e quant'altro va letto una volta nella vita perché è veramente un capolavoro e anche perché i personaggi tutti noi li conosciamo in una maniera o nell'altra perché abbiamo visto un film o l'altro quello della Disney è uno dei miei preferiti scusate quello vecchio con Kiefer Sutherland lascia fare che faceva Atos Chris O'Donnell bellissimo quel film lì c'entrava poco quel romanzo ma era un film strepitoso che ancora quando lo fanno tanto ci recito sopra perché lo so praticamente a memoria dalle volte che l'ho visto quando ero piccola e niente io ve lo consiglio assolutamente da leggere una lettura assolutamente da non perdere poi passiamo a tutt'altro genere anche se anche qui di intrighi si parla questo romanzo di cui vi ho già parlato perché l'ho letto quando già avevo aperto il canale per cui sicuramente ne avete sentito parlare avete sentito parlare ovviamente dell'autore perché sapete che io l'amo tantissimo ovvero La donna in bianco di Wilkie Collins vi consiglio questo libro perché è abbastanza ciccione ma non pesa troppo per cui se volete portarlo in valigia ci sta c'è abbastanza da leggere ovviamente lo leggerete alla svelta perché comunque è un giallo è uno dei primissimi diciamo gialli polizieschi che sono stati scritti in Inghilterra in Gran Bretagna Wilkie Collins comunque è considerato uno dei padri del romanzo giallo poliziesco ed effettivamente questo qui è un mix diciamo tra Sherlock Holmes e un romanzo gotico per cui se vi piacciono questi due generi mischiati ovviamente fanno un mix fenomenale per cui ci sono i fantasmi ci sono queste donne misteriose dal passato incerto uno dice una cosa uno dice un'altra è molto bello perché è costruito a testimonianze questo romanzo perché a un certo punto racconta uno poi racconta un altro poi succede una cosa per cui quell'altro prima non può più raccontare deve raccontare un altro dopo ci sono tutte queste miriade di personaggi costruiti benissimo e soprattutto uno dei pregi maggiori di Wilkie Collins e forse questa cosa appunto la dissi anche allora è la sua capacità di descrivere dei personaggi femminili fortissimi nel senso con un carattere proprio molto emancipato ecco non è che altre autori di quel periodo non l'avessero fatto però trovo che ci sia qualcosa per esempio in questo caso in Marian che non c'è in altri personaggi che ok sì sono forti si fanno valere combattono personaggi femminili sempre parliamo però in altri romanzi da un certo punto di vista sì si fanno valere dall'altro però mantengono ancora un po' quella lurda bambolina vittoriana tutta bella nastrini e via dicendo invece qui Wilkie Collins con Marian ragazzi è una donna di polso però allo stesso tempo è femminile materna cioè è una donna moderna ecco e il personaggio di Marian anche qui è un personaggio veramente bellissimo un personaggio femminile strong di carattere e forse per questo merita molto questo libro addirittura a volte è quasi superiore di mente rispetto al protagonista no Walter che è un po' stupidotto all'inizio no un po' ingenio invece Marian è una di carattere no e qui stavo pensando ah devo farvi un commento che non vi posso fare se no vi romino il libro niente straconsigliato Wilkie Collins voi lo sapete io lo amo ho una passione non ve lo consiglierei mai se non fosse uno degli autori che preferisco al mondo ha scritto dei libri veramente bellissimi ho preferito consigliarvi questo rispetto ad altri libri che ha scritto Wilkie Collins perché è un pochino più ciccione e perché trovo che sia un pochino più completo rispetto per esempio a un romanzo come La pietra di luna o Basil per esempio già Basil è molto bello però è un pochino più lento più calmo più tranquillo come lettura questo invece prende di più essendo comunque appunto come vi dicevo un giallo per cui questo forse fa più al caso vostro ecco prossimo libro anzi questi due coppie li lascio assieme perché così potete dire che cacchio hai pensato Penny prossimo libro è questo di Edgar Allan Poe e tutti i racconti del mistero dell'incubo e del terrore io ho questa edizione della Newton e Compton che è vecchissima tra l'altro perché la comprai nel lontano 2000 e adesso lo dico 4 Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe questa è tutta una serie di racconti esistono in varie edizioni addirittura li trovate a volte anche staccati poi racconti del mistero dell'incubo del terrore tutti staccati la Newton e Compton ha fatto dei mammut tra l'altro adesso esistono i mini mammut però non mi ricordo se c'è Edgar Allan Poe nei mini mammut che costano una stupidata costano 4-5 euro per cui eventualmente l'avete tutto condensato e ve lo consiglio c'era anche Edgar Allan Poe in quei classici quelli a 0,99 però chiaramente ce n'erano di meno per cui non so io vi consiglio di prendere una versione in cui è un pochino più completa con più racconti voi sapete io non sono un'amantissima dei racconti nel senso che ne leggo a pacchi di raccolti di racconti ahimè io preferisco i romanzi perché preferisco trascinarmi dietro i personaggi per 200 pagine di fila piuttosto che abbandonarli dopo 10, 20 o 30 pagine per cui i racconti non fanno tantissimo al caso mio Edgar Allan Poe però è uno di quegli autori che mi conquista col racconto e che veramente ha ridefinito se vogliamo il genere ha proprio definito il genere del racconto soprattutto del racconto horror anche perché Edgar Allan Poe non è quello che vi mette paura raccontandovi il mostro quanto è brutto quanto è cattivo adesso vi mangia ha i denti aguzzi e vi dicendo Edgar Allan Poe è uno di quelli che vi mette il terrore però di tipo psicologico cioè insinua un po' per volta la paura l'ansia l'angoscia che è già una come me che ha le ansie delle ansie figuriamoci per cui se siete poi in casa da soli in montagna c'è buio i lupi che urlano fuori non so dove andate in montagna qualunque posto andiate e dove vado io non ci sono ovviamente ma è già e no perché i lupi sono carucci comunque se non ti mangiano ma comunque non ti mangiano sono carini i lupi e vi stavo dicendo mi sono persa ma di fatto che sì Edgar Allan Poe comunque vi insina un po' per volta l'ansia il terrore lo fa in maniera un po' sudola e poi trovo che sia un autore molto passionale nel suo modo di scrivere cioè ci sono questi personaggi protagonisti dei suoi libri che si fanno molto muovere dalle passioni poi vi si racconta dell'incubo della follia che è portata agli incubi dell'amore che porta alla morte la passione appunto sempre che porta alla pazzia cioè ci sono tutti questi uomini molto passionali questi protagonisti che si fanno muovere da questi sentimenti fortissimi e c'è un po' di tutto c'è un po' il romanzo anche giallo perché anche Edgar Allan Poe si è dedicato al romanzo giallo barra poliziesco c'è il romanzo del terrore c'è il romanzo horror c'è un po' il misteri c'è un po' di tutto in Edgar Allan Poe e un capello beraria e è un autore che vi consiglio tantissimo nel caso non l'avete mai letto è un autore che comunque appunto come dicevo in una raccolta del genere c'è un po' di tutto sono racconti che comunque non vanno letti in fila e trovo che la cosa molto bella è che potete farvi guidare dal momento io mi ricordo che la prima volta che apri questo volume andai nell'indice iniziai a scorrere un po' i titoli e lessi un raccontino per volta in base a quelle che mi ispirava il titolo per cui tipo forse uno dei primissimi che ho letto adesso ve lo dico perché un po' per volta li segnavo quelli che leggevo di titoli tipo uno dei primissimi che ho letto è tipo la mascherata della morte rossa il pozzo e il pendolo lo scarabeo d'oro il cuore rivelatore vabbè famosissimo penso che ormai tutti lo conoscono la caduta della casa Asher la sepoltura prematura perché questo mi dice oh madonna ci sarà una sepolta viva berenice è bellissimo io regalai ve lo dico perché in inglese Edgar un po' rende benissimo regalai a un mio amico mi ricordo per un suo compleanno che lui è un appassionato di romanzi horror ma anche di Edgar Allan Poe in particolare questo volume bellissimo rilegato era tutto in inglese era una raccolta proprio in inglese con tutte le opere di Edgar Allan Poe bellissime perché c'era il corvo qua davanti c'erano tutte le opere comprese le poesie e se per caso lo trovate non lo pagai una follia stranamente perché io quando lo presi in mano ho detto questo volume questo era un suicidio e mezzo per regalarmelo perché dovevo darvi a un rene in realtà lo pagai una cifra abbastanza umana per il volume bello com'era e se lo trovate Edgar Allan Poe in inglese ve lo consiglio soprattutto per quanto riguarda le poesie perché sono molto belle da leggere in inglese e niente magari l'avete anche già letto avete sentito nominare Edgar Allan Poe forse anche per quel film Balordo che uscì qualche anno fa che si chiamava The Raven però c'era John Chiusa che faceva Edgar Allan Poe il film non era un granché però l'idea di base poteva essere anche carina c'era questo serial killer che si ispirava ai romanzi di Edgar Allan Poe per ammazzare la gente poi il film si è un po' perso per strada diciamo che ci ha reso benissimo la trama c'erano dei buchi di sceneggiatura immensi e sì che poteva essere comunque bellino come film però vabbè se lo volete recuperare come filmettino così senza né arte né parte la sera guardo un film un po' leggero ci sta alla fine ecco i prossimi due romanzi sono anche per festeggiare ci stavo pensando tra l'altro che sono un tipo di anni che ho pubblicato quel meraviglioso video che fa sempre tantissimo successo per cui vengo sempre ricordata molto volentieri no scherzi a parte stavo pensando che guardando tutto l'elenco dei classici e i libri che ho di sopra ho detto cavolo devo scegliere dei libri abbastanza leggeri no e che siano anche divertenti perché qualcuno mi ha detto fai un video dedicato ai libri un pochino più divertenti no adesso per quello ovviamente farò un video a parte lo prometto però intanto che stiamo parlando di classici adesso vi ho consigliato due abbastanza del mistero no un altro che è di avventura però è denso comunque di avvenimenti questi due appena li ho visti ho detto va per me ci stanno d'estate allora vi parlo prima di quello un pochino più serio no che è questo l'amante di Chatterley di David Herbert se non mi ricordo male Lawrence l'amante di Lady Chatterley anche se per tanti anni è stato considerato un mezzo porno in realtà non ha niente di porno neanche di particolarmente erotico chiaramente per i lettori dell'epoca potevano essere una cosa sconvolgente anche noi se lo leggiamo comunque ci sono delle scene erotiche tra virgolette abbastanza spinte ma non è niente di esorbitante io questo libro l'ho lessi anni e anni fa per cui vado tutto a memoria questa cosa l'amante di Lady Chatterley per me è un libro bellissimo perché comunque sotto sotto racconta la storia sempre di una donna molto forte e di una donna che sa che cosa vuole è una donna che si sposa con quest'uomo che rimane paralizzato per cui non può darle né un figlio che lei voleva né diciamo un po' cosa naturale tra due persone che si amano sta di fatto che il marito chiaramente questa cosa non gliela può più dare e lei va a cercarla altrove è una specie di racconto del risveglio della femminilità diciamo della scoperta del sé è un romanzo molto scorrevole scritto molto bene è un romanzo che mi ricordo tra l'epoca mi era piaciuto tantissimo se volete leggere un libro anche una storia d'amore con qualche parte erotica mi rivolgo a voi che magari piacciono questi libri non sozzi però comunque con delle scene d'amore un pochino più approfondite chiamiamole così e questo per dire che ci sono dei romanzi che non sono le 50 sfumature di grigio che sono sicuramente scritti meglio e che ok hanno delle scene di sesso ma almeno le raccontano bene le scene di sesso e non le raccontano in quella maniera becera e irreale se vogliamo a tratti perché a volte è veramente irreale perché mi domanda come trombi questa per scrivere certe cose e questo è sicuramente un buon esempio di quel tipo di reletteratura parlando sempre di sesso però di libro un pochino più come dire non so come buffo divertente esagerato non so bene come definirlo questo romanzo di The Sad mi è tornato in mente perché ero in giro con la Luana Ern Sho Tsubuki prima stavo cercando di dirla perché mi si è impappinata la lingua ero in giro per Milano e le è capitato in mano appunto un romanzo di The Sad non mi ricordo se è questo o un altro e mi ha guardato e li faccio guarda è molto più divertente di quello che pensi io ho letto soltanto questo di lui ma sicuramente leggerò dell'altro prima o poi perché magari non saranno così divertenti io Giustine me lo regalavo a un mio amico per farmi uno scherzo idiota ciao Baru probabilmente perché non pensava che avessi il coraggio di andare in treno perché all'epoca lavoravo a Milano andavo a lavorare in treno non pensava che avessi il coraggio di andare in treno prendo il caldo questo libro così mettendomi a leggere ma io invece l'ho fatto perché l'ho iniziato a casa una sera così solo che prendeva tantissimo mi ha preso talmente tanto che ho detto no io devo andare avanti a leggere devo arrivarsene in fondo ecco non lo tiravo fuori in ufficio perché in ufficio facciamo il capo che a me non piova i coglioni sta di fatto lo leggevo soltanto in treno poi quando ero al lavoro tiravo fuori l'e-reader che all'epoca mi ricordo mi aveva prestato l'i-pad a mio papà e leggevo i libri direttamente su quello Giustin ovvero le discazze della virtù trovo che sia un libro veramente fenomenale e veramente divertente a tratti chiaramente è esagerato è la classica storia della sfiga più sfiga l'hanno scritta tutti gli autori in tutti i tipi di letterature nel senso che c'è questo personaggio all'inizio che le sta per capitare la sfiga suprema adesso non mi ricordo se la incatene questa appunto Giustin incontra un altro personaggio questa nobile e questa nobile le chiede ma scusami come ci sei finita qua e lei inizia a raccontare dall'inizio inizia a raccontare capito che lei aveva questa sorella e praticamente lei Giustin era la sorella quella che era della politica del non la dovia mentre Juliet se non mi ricordo male era la sorella invece della dovia e vedrai che ce la faccio ovviamente De Sade siccome era del partito della dovia a Juliet chiaramente farà capitare delle cose di un certo tipo a Giustin una sfiga dietro l'altra cioè Giustin praticamente adesso non mi ricordo qual era il suo scopo dov'è che doveva arrivare sta di fatto che per giungere a questo scopo gliene capitano donne lei incontra un personaggio uno peggio dell'altro cioè lei per salvarsi da uno capita in uno che è peggio di quello prima per salvarsi da questo uno che è peggio ancora dell'altro il problema cosa fa però così De Sade ci racconta un po' tutti i prototipi della società e c'è questo pezzo veramente forse uno dei miei preferiti ma anche uno dei più tremendi che è ambientato in questo non convento in questo specie di monastero ecco in cui Giustin viene accolta e dice ok vabbè sono in un monastero in mezzo ai modi ci sono al sicuro io nel momento in cui ho entrato ho detto se ciao come minimo qua te ne capitano le peggio cose e effettivamente le capitano le peggio cose quello che riesce a fare De Sade non è farci dire che schifo ma poverina è così ma ti fa dire sei veramente cretina e te le stai meritando veramente tutte anche perché lei è la beata svampita non è che tutte le volte capito che le capita una cosa peggiore si sveglia fuori e dici no magari aspetta adesso sto un po' più attenta ci butto un po' più l'occhio su queste cose no lei ci capita in mezzo proprio tranquillamente e tra l'altro lascia che il destino faccia il suo corso non è che lei cerca mai diciamo di salvarsi o così lei per salvarsi si appoggia sempre agli altri ma anche su se stessa e di conseguenza appoggiandosi agli altri bam in conto della gente che è pessima io è un romanzo che vi consiglio vi sfido a leggerlo in mezzo agli altri questo perché con questa copertina vi sfido ma soprattutto perché di De Sade tutti dicono capito che sembrava io prima di leggere ho pensato che sarà un ricettacolo di porcate in mani e in realtà è vero ci sono delle scene di sesso però vi assicuro che sono talmente esagerate talmente forti talmente irrealistiche che non è che vi vi fanno non eccitare però dire ma è però fia bravo raccontare le scene di sesso o dire a me che schifo mi fanno ridere perché dite ma sì ma non è possibile cioè è talmente assurda questa cosa che diventa divertente alla fine e ovviamente cioè il succo di tutto ciò è che De Sade vi dice praticamente datela che è meglio piuttosto che tenervela che comunque prima o poi qualcuno passa se la prende e scusate questo succo finale del discorso che non era proprio finissimo però più o meno il succo è quello ecco vi consiglio di leggerlo vi consiglio questi altri classici mi è fatto piacere che mi avete consigliato altri generi e sottogeneri per fare appunto questi video vi sto avvizzando tantissimo perché vi ho fatto questo video vi ho fatto quello dei preferiti nel mese adesso questa settimana vi metto anche questo poi la settimana prossima se riesco faccio anche il video dei books solito perché effettivamente è un po' che non ve lo faccio e niente vi saluto vi auguro buone letture buone vacanze se in vacanza tipo ci sentate buone vacanze a quelli che hanno smesso di fare no la maturità no porca miseria beh quelli che sono nelle classi delle superiori in bocca al lupo a tutti quelli che hanno gli esami di maturità e che hanno qualunque altro tipo di esame anche l'università dai ragazzi strong ve l'ho già detto l'altra volta strong mi raccomando per tutti quelli che rimangono a casa e non vanno in vacanza sto preparando un video anche per voi con dei romanzi abbastanza divertenti e così mi è piaciuta molto l'idea che mi è andata una ragazza porca miseria oddio mi sfugge il nome perdonami tantissimo giuro che lo dirò al momento in cui farò il video comunque mi è stato consigliato di fare dei un video con i romanzi ambientati a Londra o comunque in Inghilterra e questa idea mi è piaciuta tantissimo perché posso prendere libri di vari genere ovviamente un po' il giallo un po' il romanzo storico via dicendo comunque tutti con ambientazione in Inghilterra continuate così mi raccomando voi suggerite così io intanto vi sfrutto uno sfruttamento minorile a voi minorenni a voi non minorenni non è sfruttamento minorile mi spiace qualcosa aiutate questo povero cervello che è un po' inceppato e è in crisi ultimamente vi risaluto vi riaguro buone letture vi mando un bacio ciao